Ah, yeah. Ok. Yeah, yeah, perfette! Ancora qua! Ora sarà un po' più, hai sentito un po' più. Perché prima era più... Ragazzi, immergetevi in questo viaggio con noi! Benvenuti! Mettetevi in famora, Lienis, Violetta e Amalia! Oggi parliamo di... Felicità! Oggi parliamo di... Felicità! Ok, Emilia, poi sento... Abbiamo trovato il nostro intro. Scusate, ma voi mi sentite? Sì, molto bene. Io non mi sento molto bene. Non ti senti? Non sei felice? Non puoi non essere felice oggi, perché parliamo di... Felicità! Ok, avete visto che sembra che vadano le labbra... Va bene, ragazzi. C'è gente che sta ascoltando questo podcast, ci hanno delle cose da fare, iniziamo. Viola, a te l'onore. Viola, a te l'onore. Scusate, ragazzi. Bene, bene. Allora, proseguiamo il filone che abbiamo chiamato filone Inside Out. No sponsor? No sponsor, perché non ci pagano. Ma non cazzo nessuno? Filone emozioni. Oggi parliamo, abbiamo parlato della rabbia, abbiamo parlato della tristezza. Oggi un'emozione positiva. È per sempre. Finally. Che è forse più positiva di tutti, che è forse lo scopo della vita di ognuno di noi ed è la sentimento della... La sentimento. La sentimento della felicità. La sentimento della felicità. Felicità! Ok, come sempre si inizia. Qual è la vostra faccia della felicità? Uno, due, tre. Ah, voi... Scusa, Peri. Allora, va bene. Questa cosa divertente è una cosa veramente da babbe, questa cosa che facciamo. Ah no, a me piace molto, però lo sbattico è che per chi ci ascolta su Spotify... Cioè, non è... Dice, chissà che cacchio. No, ci sono alcune cose, più che altro ho notato che nel taglio l'altro giorno, quando facciamo la faccia triste, non si vedeva, perché era troppo lontana. Ehi, che te... No, però poi... Vabbè, no, ma io te lo spiego. Poi è un'altra volta questa roba qua. No, ma ho guardato proprio le riprese. No, no, baby, but we have two, ciao. Sì, ma non è stata perciata bene. Three, actually, three, guys. Nel momento in cui ne facciamo la cosa... Va bene, allora... Secondo me possiamo iniziare. Domanda numero uno. L'intro. Allora, la prima domanda che abbiamo sulla scaletta è... Semplice, è una roba così. Siamo persone felici? Nina, your turn. Io mi sento una persona felice. Sì, mi sento molto felice. Ovviamente, ma periodi, perché non è che posso... Se mi prendi un periodo, no, magari la risposta non era questa. Però tendenzialmente mi sento una persona felice. Beh, grazie a Dio ho un sacco di cose belle intorno, quindi comunque si le apprezzo e riesco ad apprezzarle. Sono contenta. Ho avuto i miei momenti in cui è stato un po', insomma, difficoltoso. Sì, non fa così. Ma siamo a cavallo, ragazzi. Siamo a cavallo. Voi? Voi che... Amalia? Amalia? Una scorsa puntata, per chi non l'ha ascoltata, praticamente loro si sono di... Cioè, quasi casi clinici, no, della tristezza. Quindi a questo punto... Ma in via mi ha dato del caso clinico. Io ho riscordato appunto e ho detto, cosa c'è? Ho avvischiato. Ho detto, sai cosa c'è? Fatti i cazzi tuoi. Fatti veramente i cazzi tuoi. Fatti veramente i cazzi tuoi. Però, però, sì, tu sei una persona felice. Io vivo nel momento, ieri e oggi sono strafelice. Quindi dico in sé. Ieri e oggi? Ma sapete, forse perché... Lascia desiderare. Forse perché... Non ho ancora detto, ragazzi. Domani è il mio compleanno. Che è la cosa che mi rende più felice nell'anno. Quindi io sono molto contenta in questi giorni. Ma anche quando... Vabbè, niente, voglio fare una battuta che però non faceva l'idea. No, vai, calma. Ogni volta inizia a cannone lei e poi si viene indietro. No, vabbè, sono una tremenda. Infatti non dovrei fare questa cosa adesso. Forse non dovresti fare la radio. No, no, no. Tra l'altro è verissimo. Vai, Viola. Io siamo tutte persone felici. Quindi sì, sono una persona... Ma solo perché non sono gli altri? Perché ti senti veramente così? Tranquilla. Cioè, tipo, se ti costruisco, si butta sotto una macchina. Io sono una persona felice. Sono una persona, adesso faccio la matura così, però che forse a volte non si rende conto... Cioè, è troppo triste ma non ha motivazioni per essere triste. Cioè, dovrei un attimo rendermi conto che devo essere felice. Perché non è possibile. Ok. Non essere felice per la mia vita. Cioè, ho un sacco di fortune e a volte sono un po' insoddisfatta del cavolo. Cioè, sono un po' proprio... Ma dipende da cosa ti diventa. Dipende da cosa deriva la tua tristezza o barra felicità. Sì, però ci sono delle cose che comunque ti devi anche rendere conto di equilibrare ciò che è intorno. E a volte magari non mi rendo conto di avere tante cose, motivi per essere felice. Capito cosa intendo? Cioè, è un po' viziato come ragionamento. Quindi Viola è una viziata. Sì, però io penso anche che il discorso del... Faccio un esempio, eh. Tipo, i bambini in Africa muoiono, quindi non posso lamentarmi niente. No, 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 non è quello. Non regge. Cioè, nel senso, ci sa che magari uno comunque, nonostante vive in una situazione privilegiata, abbia tutto così, ci sono delle cose che... Nel momento in cui comunque consapevole, ci sono delle cose che non lo... Ma sì, vi passa a vedere, per esempio, Kendall Jenner nel suo video di Vogue dice... Che vive di anxiety. Sì, che lei è una persona che sta male e anzi la sua sofferenza proviene proprio dal fatto che non capisce, no, lei che di fuori, no, sembra che abbia tutto, ha una marea di soldi, gli amici, i figli, la famiglia meravigliosa, da quanto pare, ma comunque, no, il suo sentimento, esatto, forse il fatto che viene filmata da quando ha cinque mesi... Ma vediamo le ore per anni fra dieci anni, ragazzi. Sarà il tempo a parlare, no, spero. E la vi tu, vi tu. No, io spero che vadano bene, però ecco, sicuramente. Allora, siccome nessuno a me mi ha chiesto di... Nonostante, domani sia il mio complesso... No, dovete sapere che questa settimana sono tutte contro di me, io non capisco perché, vabbè. Allora, se mi posso permettere... Permettiti. Io sono una persona molto felice e riconosco che la mia felicità, ovviamente, anche io dei momenti, no, non sono perfetta, ma quasi, ci manca poco, ci stiamo lavorando, che la mia felicità proviene proprio da una grandissima gratitudine. Io sono molto grata. E io non tanto, secondo me. E sono molto grata anche per quella roba lì, che lo so che forse è una cosa un po' da... Ecco, mega radical chic il centro, ma io sono serio quando penso a il culo che io ho avuto nella mia vita di... Cioè, io sono nata in una famiglia... Perché tu sei arrivata all'ipopo, sei arrivata in centro di nato... Io però posso dirvi una cosa. Io vorrei firmare una petizione contro l'abuso dell'espressione radical chic, perché vi giuro che la... Eh no, però è... Cioè, è abuso proprio. No, però hai ragione. È un abuso che... Allora, sono una persona, e ancora qui, riprendiamo mio papà, riprendiamo il mio papi, che sono cresciuta con il bisogno di essere grati, bisogno di essere grati, bisogno di essere grati, mi si è inculcata questa roba. Io sono una persona molto, molto grata. E questo, ovviamente, siccome sono molto fortunata, ho voi che siete meravigliose, ho la mia famiglia che è la mia vita, sono stupenda, ovviamente pure loro con dei difetti, mi viene molto difficile anche quando sono un po' giù, riesco molto a riprendere, guardarmi da fuori e ridimensionare quella che è la mia tristezza. Detto ciò, ascoltate la puntata prima, è importante, però secondo me questa base qua è una sicuramente fortuna che io tengo molto salda e che vi dirò di più, un giorno spero di rinculcare nei miei figli, cioè è una roba, sì sì, no no no, perché proprio io ce l'ho inculcata qua. Inculcata. Cioè devi essere grata, devi essere grata. Però guarda che è esattamente quello che dicevo prima, cioè evidentemente ci sono, cioè non riesco ad essere tanto grata delle cose che ho e dovrei esserlo, quello che dicevo, non era ovviamente roba dei bambini in Africa e cose, però a volte non mi rendo conto nei momenti di tristezza guardarsi intorno e dire cacchio, intanto c'è qualcuno con cui parlare, intanto è delle amiche meravigliose, intanto è una famiglia della Madonna, cioè hai capito? Ma raga ma questo è assodato ed è la base e comunque già che facciamo questi discorsi voglio dire che con sapevolezza ce n'è. Dico che i momenti di, a parte che stanno parlando di tristezza, comunque i momenti di tristezza vanno un po' oltre a queste cose che sono enormi ma che magari poi dopo comunque ti portano ad avvertire. Vabbè insomma andiamo avanti, parliamo un po' di tristezza però. Esattamente, riprendere il concept di oggi, ovvero la felicità, la cosa è secondo me il quando sei triste hai persone con cui parlarne e questo è già nella tristezza una grande felicità, il comunque rendersi conto che tu hai persone che ti ascoltano. Così quando sei felice hai qualcuno con cui condividere questa felicità. Esatto. Alla domanda, qual è il vostro guilty pleasure quando siete felici, molto felici? Che cosa che fate? Io ballo un botto, è la mia roba preferita del mondo. Io ho un problema quindi mando audio a tutte le persone che mi chiamano nella mia vita dicendo ti rendi conto di quanto sono felice. Anch'io sono esagitata. Perché se non lo condivido non è reale. Io sono strana, poi io ho questi grandi momenti di, dai secondo me è troppo relata a voi questa cosa, tipo quando a caso, cioè sicuramente c'è un motivo, però a caso dici, oddio sono una donna più felice sull'universo. Beh, no, è bellissimo. Cioè tipo che hai quei momenti e io divento fuori di testa, inizio troppo alle battute oppure mi viene molto da far vedere all'altro che tipo deve essere felice anche lui, quindi tipo amo, ma quindi adesso è inizio a organizzare tutta la mia vita e voglio fare un botto di cose e divento fuori completamente. Anch'io. Che bello. Io ho molto sta roba che ballo nuda davanti allo specchio. Anch'io. Nuda. Ragazzi adesso sono felice arrivo su. Questa ragazza anche ha fatto quando mi sento anche felice vuol dire anche sentirmi comfort, sentirmi che mi piaccio così, quindi è proprio questa cosa. Scusa, nuda senza mutande? Tutta nuda. Ma cioè sei vestita, ti senti felice, ti spogli? No, no. Saranno felici i vicini? No, no. Capita magari che sei già nuda. No, perché poi mi sono andata a fare la doccia o mi sto cambiando. E dici minchia che buona. Ehi, sono strafelice, balliamo un po'. Esatto, esatto, ballo così mi gaso. Oppure succede molto che, come si dice, parlo, allora, vi romando un botto anche io gli audio alle mie amiche, cioè tipo che parliamo, mi racconto un botto di robe e poi, e poi e poi mi vesto bene. Mi impegno a essere bella, a vestirmi in un certo modo perché magari... Quel giorno la felicità è collegata al fatto che mi sento una certa vibe. Io il contrario invece, cioè se sono triste per essere, per diventare felice, voglio sentirmi bella. È vero, in realtà faccio anche quello io, però mi rendo conto che mi impegno molto. Alice ha alzato la mano quando alzato la mano, tutti zitti. No, 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 ma finite, era solo per prenotarmi. Vai Bubo. Allora, chiudete gli occhi, ok? È luglio. Anzi no, fine giugno quando c'era un sole. Il tempo a giugno. Esatto. Non è il mio complanno. In un ipotetico mondo, 26 giugno è il mio complanno. Ti dico che è giugno, porca zozza. in cui non ci sono 40 gradi ma tipo 25 allora voi siete appena uscite dalla doccia, vi preparate con la musica sotto vi mettete un vestito nuovo che vi sta da dio, vi sentite stupende uscite e pigliate la moto e vi bevete 400 birre con le vostre amichette nel vostro bar del cuore e poi state lì e ancora vi dico meglio vi rendete conto alle 2, oddio sono già alle 2 ma perché il tempo è talmente bello passato con voi, insieme con il tramonto, il cielo che si scalda la musica che va la vita è bella o ancora meglio, richiudete ancora gli occhi io ce l'ho ancora chiusi sono le 8 voi siete appena tornate non dal lavoro, non da scuola ma dalla spiaggia yes, you are beautiful you are ten as fuck e bevete un bicchiere di vino bianco con le vostre amiche prima di uscire per cena io ho un problema con l'alcol e poi dopo che ti sei fatto la bella doccia la pelle che sa di dopo sole salsedine salsedine guarda che mi so proprio mi hai aperto io vorrei chiudere in un multiverso io vorrei chiudere un secondo invece se potete farmelo ok 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 torni nella spiaggia metti la musica follow follow the song ti andiamo in musica la canzone comunque torni musica finestrini abbassati piedi piedi di sabbia tutto un po' ancora con sale nei capelli torni a casa ti fai una bella doccia ti sciacquino è tipo una puntata ASMR con queste voci tranquille che abbiamo suavi i love that i just saw that i love that quanto è vero quanto è vero di Dio pure io che mi reputo una persona molto felice che ci sono delle tre caselle ok che si può allora amore amicizia scuola questo ha vent'anni non succede mai che tutte e tre vanno bene io non ci credo io voglio sapere il tuo podio di caselle della tua vita che devono andare bene no io non ho podio ti dico solo che non mi è mai successo che tutto in un momento fosse tutto bene allineato uguale bello o forse non ci siamo resi conto no no I know that quando quando io ero fidanzata pigliavo solo quattro a scuola ero depressa perché ogni anno c'era Oddio ti bocciano quando poi invece il mio amore mi ha spezzato il cuore in realtà dieci era il mio periodo è lì è dieci inversione è dieci inversione no scherzo ecco no forse la scuola non mi è mai andata bene no la scuola forse non mi è mai andata bene a questo altro punto però l'uni che mi piace molto invece la scuola davvero ci rende tristi se va male esatto per me io vigilo c'è chi lo soffre eh no ma però c'è chi lo soffre vigilo stavo di mera ti ricordi ci sono persone che al ginnasio eh sì mia sorella è una che soffre da morire quando tu la vedi che quando finisce un periodo scolastico difficile lei riaffiora quindi è questione è proprio questione di caselle che tu metti nella tua vita e se io devo pensare alle cose attualmente che mi rendono felici una apparirà superficiale ma non è così allora una sono sicuramente amicizie cioè se non ho l'iti in corso se non ho tipo rancori rancori da dire e vi dirò se non ci sono drammi tra le mie amiche a livello tipo cioè che una mia amica sta realmente male capito vero cioè quei momenti lì comunque c'ho qualcosa poi sono felice lo stesso perché riesco comunque a separare le cose ed è importante essere empatici fino ad un certo punto però se le mie amiche stanno tutte bene in un periodo proprio in tutte condividiamo questa felicità mi gaso parecchio oddio raga quanto è brutto quando tu sei felicissima ok esci magari e hai un'amica che magari è successa una cosa è una cosa che detesto io vi giuro odio perché poi ripeto io sono una zero brava con il gestire ma se è il giorno in cui io sono veramente felice e succede vabbè cose pure minime no ma che poi ti fai una cena magari molto cupa invece molto presa male in cui parlate ma tu in realtà eri partita quello è bruttissimo molto più di quando sono un po' giù e invece c'è io volevo collegarmi volevo collegarmi e fare una domanda e poi ritorniamo sulle caselle se volete voi siete passatemi in termini un po' invidiose alla felicità altrui cioè riuscite ad essere non dico contenti ovviamente alla felicità altrui perché spero di sì però che a volte vi sentite un po' insoddisfatti della vostra felicità perché pensate sempre che le altre persone siano più felici di voi cioè vi mettete molto a confronto nella felicità degli altri o no? allora vai tu no non so ok allora io in realtà tipo invidiosa no no però sempre parlando del rapporto che avevo con la tristezza io quindi brutto quindi che non non l'accetto quando sono giù e vedo le persone che sono felici non è che sono invidiosa perché dico oddio perché tu sia no ma è più tipo anche io voglio cioè perché io non lo sono ma più perché che palle perché in questo momento non riesco ad essere così no? e poi mi rendo conto che in realtà grazie a dirlo non è una cosa così debilitante per cui mi rendo conto che un po' riesco anche a gestirla cioè io un po' riesco a a decidere di essere è strano la dire decidere di essere felice però se mi impegno comunque metto in una certa ottica e non mi lascio abbandonare proprio capito così a braccia aperte la tristezza dire oddio mio a tutto di merda odio tutti e niente mi soddisfa se riesco a capire la vita in mano a rialzarmi mi rendo conto che poi comunque riesco anche a vedere le cose in realtà secondo me è la cosa migliore quando poi riesci a accettare il fatto che ci sa che sono momenti in cui lei sì e tu no e momenti in cui tu sì e lei no cioè sempre che comunque è tutto veramente in bilico però su una base che tendenzialmente per la mia esperienza è gestibile è abbastanza così gestibile però invidiosa no a volte dico cavolo perché tu sì o no poi cioè secondo me c'è anche tutta una questione nostra proprio di Gen Z che noi anche rispetto a quelle che erano genitori nonni noi ogni giorno vediamo che questa roba qua noi non ci rendiamo conto di quanto sia assurda noi ogni giorno vediamo delle cose cioè uno sprazzo di vita che quelle altre persone che sia TikTok Instagram ci fanno vedere e noi siamo costantemente lì a guardare quello che fanno ripeto ovviamente uno di solito posta cose felici quella è una roba che se ci pensate è ti fotte il cervello ti fotte il cervello e noi cioè secondo me siccome la siamo così in tweet non ci rendiamo conto no ma quella cioè poi io se ci penso mi rendo conto del quante volte mi guardo e non mi rendo conto la mia vita con la loro e dico ah però scusa perché quella persona in quel posto lì si è stradivertita è un po' come quell'altra volta in cui ci sono andata mi ha fatto cagare è un po' quando stai a casa il sabato sera poi la domenica apri Instagram e vedi tutti che hanno fatto una serata e io soltanto a 21 anni 22 anni che mi rendo conto che quella storia che mette quella ragazza o quel ragazzo in discoteca o in un locale fighissimo forse si è rotto le palle per 4 ore di seguito ma è solo fatto tanto perché c'era il DJ no io più che altro in quei casi quello che penso è cazzo che roba figa che sta facendo poi penso aspetta l'ho fatta anch'io solo che io non ho messo una storia quindi non me la ricordo cioè magari anche l'ho registrata però quella cosa di sentirsi sempre c'è la mia felicità non è mai cioè che con questa roba dei social da un lato c'è un'estrema condivisione solo della felicità a volte estrema condivisione anche della tristezza forse troppa troppa però in particolare della felicità online di te? beh adesso no adesso online beh anche veramente guarda i trend ti tocca ma ci sono delle cose che escono estremi che comunque forse solo tanto se ci pensate comunque sono tutti i trend che guardiamo e diciamo però un po' cringe io non lo farei sì certo anche mentre le robe della felicità le facciamo cioè le robe divertenti no beh certo sì perché non è stata ancora sdoganata secondo me è più una roba vediamo più la tristezza dal punto di vista intimo mentre una felicità è una cosa che va più condivisa e quindi questa cosa ci crea un po' di destabilizzazione nel momento in cui vediamo qualcuno pubblicare e far vedere al mondo la sua sofferenza no perché altro non è solo far vedere al mondo la sofferenza in sé secondo me quello non è un problema perché voglio dire secondo me no non lo è è più il fatto da dove arriva magari sono delle cose talmente così personali intime così che magari io personalmente dico non lo farei mai quindi percepisco come una cosa che per me è cringe ma poi in realtà non lo è effettivamente oppure magari da un punto di vista più serio da cui potresti essere anche influenzato perché ci sono persone anche che cioè l'estima legittimizzazione brava questa era difficile era difficile del dolore ti crea poi anche il fatto che il dolore poi diventa un po' perseguito oltre che a vicino cioè a volte veramente ci sono delle cose però vi faccio questo esempio qua su di noi che è molto piccolo ovviamente ma quanti messaggi ci arrivano del ah oggi ho sentito che pure voi quella volta lì vi siete sentite in questo modo qua mi ha strafatto bene perché pensavo invece fosse sempre felice cioè io adoro quando non so magari le creator che seguo molto quelle cinque proprio che guardo con il cuore in mano perché le amo comunque si aprono perché molto spesso ripeto cioè soprattutto io che guardo molto youtube ovviamente il blog cioè si fa quando della vita meravigliosa quindi poi quando postano cose anche un po' più real è un po' proprio ah ok pure loro anche se hanno i soldi anche se viaggiano gratis anche se pure loro hanno i cazzi i soldi non fanno la felicità comunque un'altra cosa che volevo dire legata al fatto delle storie di vedere secondo me il fatto comunque di vedere tutto quello che fanno gli altri che questa cosa abbia sempre un'accezione positiva ai nostri occhi forse perché c'è un estremo paragone con le altre persone nelle storie quella roba lì secondo me ci uccide anche perché io penso cioè è solo il fatto che io in quel momento che magari questa volta stessa sono rimasta a casa non ho fatto quella cosa lì mi fa sentire in qualche modo sbagliata quando magari sabato dopo è un'altra è la situazione ma poi io magari ho trovato felicità nel rimanere sabato sera a casa cioè godere anche del fatto che tu la tua felicità è la tua felicità e decidi tu come coltivare la tua felicità non è la felicità capito il quadratino per essere felice clicca qua esatto quello che dicevo è che il fatto che non riesci a concentrarti tu singolarmente su cosa te fa stare veramente bene perché è un continuo paragonale quello che fanno gli altri quindi ti rendi conto e dici cazzo però perché a me sia loro no oppure perché a me no cioè nel senso è un po' strano cioè però secondo me è molto importante secondo me riuscire provare a concentrarsi molto su se stessi in queste cose vedere i social in maniera un po' più passiva non so come dire non così tanto che ti involved così tanto non so come dire è un po' pesante poi io ho una visione un po' più cinica di questa roba della condivisione felicità e tristezza cioè secondo me almeno perché per me anche nella realtà non solo sui social ma è anche che ovviamente condividere una tristezza ti rende debole cioè tu ti esponi e dici guarda se sono debole siete qui potete attaccarmi condividere una felicità invece ovviamente vi rende forte perché vi dimostrate forti quindi ovviamente io non lo faccio davanti a un pubblico che sia un pubblico reale social o che sia un pubblico audience miei amici è il momento in cui non voglio essere attaccabile perché sento che magari quella mia tristezza mi rende debole e mentre la felicità invece è molto bella ma chissà perché la tristezza rende debole? eh beh perché sei è come se avessi una felicità vuol dire che posso venire però 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 non lo so cioè comunque sì è vero poi sicuramente cioè tutti la vediamo la tristezza come una cosa non da deboli però nel senso che che diciamo che che definisce debolezza un po' comunque ti rende un po' debole ma non capisco altare al mente perché beh io ci penso cioè non so secondo me è una roba che io faccio molto cioè se ho delle tristezze metti che sono triste perché quella roba mi è andata male sono stata un po' sfigata in quella roba lo dico e e voi sapete che io sono stata un po' sfigata in quella roba cioè e voi non so come dire pensate a non ti rende più attaccabile ti rende più vulnerabile mentre la felicità a volte ti rende più attaccabile perché c'è l'invidia magari altrui che dicono non ti meriti di essere felice oppure che cacchio sei felice oppure guardano sempre te hai il tuo pozzo e le tue robe è più così cioè secondo me ma non è solo legata agli altri c'è ancora una cosa no non agli altri però dico non è attaccabile la tristezza è più expose cioè esporre la la tua ferita no secondo me esatto non è che la tristezza è attaccabile e quindi gli altri te la possono toccare quella ferita lì e quindi ci sono persone che non riescono a dire esatto raga se volete cucitemi voi la ferita me la voglio cucire da sola e anzi gradirei fosse anche nascosta dietro così che quando metto il costume non si vede capito però non è che se io sono felice se io sono felice e ho un dolore che io non sto mostrando comunque non sono vulnerabile beh no però non sei sotto attacco però non sei sotto attacco vabbè comunque è tutta una situazione di esporre comunque questa è la puntata sulla felicità avete ragione è la parola di tristezza allora siccome purtroppo manca poco io farei il bellissimo solito round in cui ognuno di noi dice l'azzardo ovviamente poi prendete così il momento più felice della vostra vita perché io ce l'ho credo ad oggi non ovviamente beh ragazzi ovviamente non il più felice perché un periodo felice che ti ricordi no no io ho un momento ho una giornata che non è perché era il mio compleanno ve lo giuro il 27 giugno te l'hanno due anni fa perché io ho finito l'orale io a me il coin può andare io tutta quella settimana lì che io ho passato fuori con le mie amiche a sbronzarmi a ridere andare in discoteca io quella è stata la settimana più proprio di spensieratezza della mia vita ero di una felicità ero cioè che mi sentivo con il mondo ai miei piedi tre mesi dopo partivo per l'Australia cioè proprio era il mio periodo di e ultimo se posso dire a questo punto non so facciamo uno o due mi ricordo perfettamente ora piango secondo me un giorno a Sydney in cui mi sono fatta era tipo il mio ultimo mese questa tutta passeggiata perché Sydney praticamente ha questa costa qua che fai tutta cioè lunga bellissima e poi mi sono piazzata qua su questo cucuzzolo sopra ti giuro sola così e lì ho pianto cioè era proprio bello però cioè era un la consapevolezza mi sembra fosse proprio la mia ultima settimana lì ti sentissi piena cioè proprio ho detto che figata ha fatto lì bellissimo è stato con le lacrime poi comunque sole ma quella roba proprio che ti senti qua ho detto wow che cosa ho provato assurdo io ho più che situazioni cioè tipo momenti in particolare che adesso ci sono un attimo però ho tante situazioni della mia vita che mi rendono veramente estremamente felice ma cazzo c'è anche quotidiane quotidiane però tipo veramente quando faccio una bella serata con le mie amiche sono una cosa che sono una felicità immensa quando mangio tanto che poi dormo due ore sono proprio così oppure non so quando penso in estate alcuni momenti dell'estate in cui sono particolarmente serena che sono magari spiaggia quella cosa lì per cui dici ok ora posso non pensare a niente molte situazioni dopo che sono tra la psicologa veramente quando hai i momenti di maggior felicità e quando riesco dalla psicologa che dico ci sta vai tra la mia vita è risolta vai tra ce l'hai tutta nelle mani sei forte ce la puoi fare quella roba lì mi mistra rende felice beh poi altri momenti anche di amore cioè relazionali di momenti di ma proprio anche non so quando baci il tuo fidanzato in quel momento senti che proprio lo ami tanto cioè che dici cavolo io ti amo da morire e lì dici oddio cioè non vorrei nient'altro cioè vorrei solo essere qua e stare qua l'amore cavolo non abbiamo parlato dell'amore l'emblema ma c'è viola e anche mi scusa io allora ne ho due che mi vengono in mente il primo che è stato secondo me il periodo più felice della mia vita in generale è stato settembre di quest'anno dove io ero oggettivamente molto felice e non avevo motivi oggettivi cioè particolari o straordinari per essere felice ero semplicemente felice ma proprio che non avevo niente che mi rendesse triste mi sentivo bella anche tu il tuo compleanno anche il mio caso no però il mio compleanno era molto bene le mie amiche mi hanno letto questa lettera che sono scoppiata a piangere cioè ero proprio mi sentivo piena di amore e poi secondo momento sarò smielata però io mi ricordo che quando mi ho fidanzato la sera mi ha detto mi guarda e mi dice vabbè ma cosa cacchio facciamo io e te e quindi oggettivamente mi aveva detto fidanziamoci io ho visto quattro anni della mia vita quattro anni della mia vita di distruzione psicologica sono salita in moto ho detto hai vinto no ma io ho detto auto 5 ho una idea ero lì che mi sono messa mi sono messa una canzone tra l'altro ero uscita una canzone per cui io piangevo di brutto per lui scoppia a ridere scoppia ero tipo veramente avete presente quando senti ero piena no 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 però quella roba perché io sentivo il dolore svanito io sentivo tutto il dolore di anni infiniti a rincorrere sto coglione e mi sentivo no mi sentivo di una legge io mi sentivo di una legge forse non felice mi sentivo leggera di brutto leggerissimo ed è bellissimo tu? allora anch'io non mi è venuta in mente giornata il momento più bello felice della mia vita però mi è venuta in mente una situazione molto tipica che veramente proprio la serenità più che felicità proprio la serenità che vedi le lucine le cose che volano tipo per me è la domenica mattina ti svegli di fianco alla persona che ami fuori c'è il sole ti svegli che sono le dieci ti rosoli nel letto chiacchierando fino alle undici e mezza alle undici e mezza anche alle dodici alle dodici ti alzi c'è il sole ti metti le cose a casa addosso esci di casa e pranzi al sole la domenica la domenica col sole la domenica col sole che bello felicità è sintomo e non per tutte proprio di calma serenità di apatia quasi ah no io no io non sono sovrecitata permessi a parte questo no non sovrecitata io sono sovrecitata ah sì a parte questo che appunto è serenità però ci sto pensando vi giuro io vi giuro ieri ero troppo felice che bello forse è tipo il giorno più ed ero sono sovrecitata cioè non mi sentivo in me ero agitata devo scrivere a tutti capire tutte le cose bellissimo quello è bellissimo però a me piace di più cioè lì proprio quando ti rendi conto però a me piace di più i momenti anche in cui proprio serenità sì sì sei da dio sei quasi piatta sì sì sei da dio piatto alto c'è un piatto in cielo capito quindi che dici non devo ok niente vabbè e con questo con questa concludiamo è stata una bellissima puntata ognuno ci scriva tutte le sue cose che lo rendono felice così le leggiamo e da questa puntata avete anche capito che abbiamo per forza parlato anche di tristezza vuol dire che che le cose vanno insieme ci stanno ciao raga vi amiamo siete felici ciao sempre